Disinnescata la bomba di un aereo americano, rinvenuta a Santa Ninfa, in provincia di Trapani, l'ordigno di 600 libre, circa 275 kg, e risalente alla Seconda Guerra Mondiale, le operazioni di disinnesco e brillamento sono state eseguite dagli artificieri del IV Regimento Genio Guastatori dell'Esercito, con il coordinamento della Prefettura di Trapani, con la collaborazione dell'amministrazione locale, che ha pianificato le operazioni di evacuazione temporanea di alcune abitazioni ricadenti all'interno dell'area circoscritta del perimetro di sicurezza di 1.492 metri, propedeutiche alle operazioni di disinnesco. Queste ultime sono state eseguite dagli artificieri dell'Esercito e il IV Regimento Genio Guastatori di Palermo, con il supporto di personale della Questura, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile Regionale e Comunale, dell'ASPE di Trapani, della Croce Rossa e di ENAC. Ha preso parte alle operazioni anche personale del Libero Consorzio Comunale di Trapani, di ANAS SPA e nel distribuzione SPA, TIM, Telecom, SNAM, Rete Gas e TERNA SPA. Sul posto, la direzione dei servizi di vigilanza è stata affidata al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Castelvetrano. Sulla base delle direttive impartite a responsabili della sicurezza per l'Esercito, attraverso la chiusura dei varchi e la verifica dell'effettivo sgombero delle abitazioni interessate. Al termine dell'attività di evacuazione, verificata in sede di Centro Coordinamento Soccorsi, l'effettiva realizzazione di tutti gli adempimenti monitorati dalla cabina di regia, è stato dato avvio alle operazioni di disinnesco dell'Ordigno, le quali si sono concluse in piena sicurezza. In seguito alla distruzione della Spoletta e alla sua rimozione, l'Ordigno è stato trasferito con un convoglio scortato verso il sito di Brillamento, sito nel comune di Montevago, in provincia di Agrigento. A seguito di ciò, i varchi sono stati riaperti e la viabilità ripristinata.